Salve a tutti. In questo video cercherò di spiegarvi cosa sono le argomentazioni. L'argomentazione è un ragionamento in cui si tenta di dimostrare la verità di una tesi. Canonicamente l'argomentazione è fatta da premesse, assiomi, e conclusione, che si vuole dimostrare come vera. Per fare ciò bisogna seguire le regole di inferenza, con cui si passa dalle premesse del ragionamento alle conclusioni. Spesso le seguiamo implicitamente senza rendercene conto, e i logici si impegnano a renderle esplicite. Tra l'altro è possibile che sia proprio l'argomentazione ad essere implicita, cioè una o più premesse, ma anche la conclusione, può essere implicita. Non tutto ciò che diciamo è un'argomentazione, ad esempio le cose che diciamo possono essere delle semplici affermazioni. Oppure atti performativi, come quelli di cui parlava Austin in come fare cose con le parole. Dove spiega che certe parole o frasi possono essere delle vere e proprie azioni, come ad esempio imperativi. Comandi, divieti, assensi, dire di sì, esprimere preferenze, dissensi, dire di no, ecc. Ad esempio la scritta vietato fumare non è né vera né falsa, ma può essere soddisfatta o non soddisfatta. A seconda se la gente rispetta il divieto e se il cartello è a norma di legge. Ognuno di noi ogni giorno tenta di dimostrare, almeno a se stessi, la verità di certe cose, anche implicitamente, quindi studiare le argomentazioni è di un'utilità pratica enorme. Se la conclusione è vera o falsa l'argomentazione è deduttiva, se è probabile o plausibile allora è induttiva. Per questo la logica formale si divide in logica deduttiva e logica induttiva. È considerata valida un'argomentazione in cui non è possibile che la conclusione sia falsa e le premesse vere. La conclusione è conseguenza logica delle premesse. Un'argomentazione invece è corretta se è un'argomentazione valida ma ha anche le premesse vere. Un'argomentazione è buona se è corretta ma anche convincente. Per precisare, le argomentazioni valide sono perfette dal punto di vista formale, ma possono anche avere premesse false. Invece quelle corrette sono valide dal punto di vista formale ma hanno le premesse che sono vere, e quindi le conclusioni vere. Quelle corrette le possiamo anche chiamare dimostrazioni. Un'argomentazione è invalida se la conclusione non segue dalle premesse. Invece un'argomentazione è scorretta se ha premesse false. Invece un'argomentazione fallace sembra corretta o valida ma non lo è, quindi è convincente, pur essendo sbagliata. In generale si parla di cattive argomentazioni se sono scorrette, invalide o fallaci. È importante distinguere validità e verità. Se le premesse sono false un'argomentazione può avere una conclusione falsa eppure essere valida. Esempio 1. Gli italiani sono mofiosi. I milanesi sono e quindi i milanesi sono mofiosi. È un'argomentazione invalida, la conclusione segue dalle premesse, ma è falsa, poiché esse sono false. Esempio 2. Gli italiani sono mofiosi, i milanesi sono mofiosi, quindi i milanesi sono italiani. È un'argomentazione scorretta, viola le regole di inferenza, la conclusione in questo caso è vera, ma è accidentale. Si può mostrare l'errore con un controesempio. Gli italiani sono europei, i francesi sono europei, quindi gli italiani sono francesi. Poi le premesse sono vere ma la conclusione è falsa, mostrando come questo schema argomentativo sia scorretto. Se le premesse sono vere è possibile che la conclusione sia falsa. Il controesempio applica lo stesso schema argomentativo che prima pareva convincente con premesse vere mostrando come la conclusione sia falsa. I controesempi vengono individuati anche dal metodo delle tavole della verità. Se uno schema argomentativo ha almeno un controesempio cioè almeno un caso in cui le premesse sono vere ma la conclusione è falsa allora lo schema è invalido. Come avrete capito la logica disciplina in cui è contenuta la verità, ve lo dico a scanzo di equivoci. Poiché c'è gente che crede che la logica sia una specie di contenitore dove viene inserito tutto ciò che è considerato vero, logico, o razionale. La logica non è nemmeno, come pensano altri, il modo con cui ognuno di noi ragiona, soggettivo e personale, e che quindi esistano la mia logica, la tua logica. E così ognuno crede in quello che vuole e credere di poter dimostrare la falsità delle idee altrui a una prepotenza, un atto di superbia che viola la libertà di pensiero altrui. La logica sia chiaro una volta per tutte è lo studio delle argomentazioni, con la finalità di stabilire la verità delle conclusioni se è logica e deduttiva. O la probabilità se è logica e induttiva. Sostanzialmente la logica cerca di capire se ragioniamo correttamente. Ovviamente la logica merita una trattazione approfondita, ma io cercherò almeno di mostrarvi le principali forme logiche e soprattutto le fallace nei prossimi video. Per il momento è tutto, alla prossima!